Uno spettacolo con un forte impatto, un forte impatto visivo, un forte impatto energetico. Innanzitutto parliamo di Glauco. Noi stiamo parlando di un testo che è stato rappresentato con grande successo nel 1919. Poi è sceso un lungo oblio, anche per le difficoltà di messa in scena, per il tema che si trattava, perché Glauco è un anti-eroe. E come tutti gli anti-eroi in un periodo dove c'erano soltanto eroi vincenti, Glauco ha rappresentato un eroe decadente. Chiaramente siamo negli anni in cui D'Annunzio era il simbolo, era un simbolo e un mito irraggiungibile, per cui tutti, anche Morselli, ha cercato di tendere verso D'Annunzio, riportando il tema classico, riportando un mito che è stato raccontato da tutti, da Ovidio o da tantissimi altri. E' un eroe che, in cerca della sua gloria e della sua immortalità, quindi peccando per l'Ajubris, per il suo peccato di tracotanza, lascerà Scilla, lascerà il suo amore, per poi recuperarla, una volta diventato immortale grazie al bacio di Circe, torna nella sua terra e Scilla è morta. E si farà, appunto, per punirsi, si farà affondare nel mare con Scilla fra le sue braccia e da lì, tra l'altro, anche un'altra leggenda del mito di Scilla e Cariddi, questo canto, questo pianto che si senta da questi sconti, che è appunto il corpo di Glauco, il corpo di Scilla che piangono dal mare. E' un racconto bellissimo, è un racconto tragico. Noi abbiamo fatto come adattamento e come regia, dico noi perché sono regista e sono adattatore, ma siamo 50 attori, e quindi è un corpo attoriale importante, abbiamo fatto quello che si deve fare con un classico, perché quando si adotta un classico, l'unica cosa che deve essere fatta su un classico è attualizzarlo attraverso una messa in scena, la colonna sonora è un rock, i corpi sono in body painting, l'allestimento è chiaramente moderno, ma non si può rileggere un classico, il classico non si rilegge. Il classico è classico perché non è possibile fare una rilettura, non si può dire che Morselli voleva dire altro se non quello che diceva Morselli, quindi noi abbiamo attualizzato questa cosa, abbiamo attualizzato uno spettacolo che ha 100 anni e sembrerà che ne abbia uno, perché questa ricordiamo che è un'opera fortemente evoluta dal Presidente, dal Festival d'Annunziano, ed è un'opera, un'anteprima assoluta, quindi dopo tanti, 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 tanti anni è per la prima volta in questo modo, quindi siamo contentissimi di farlo qui in questa cornice bellissima, in questo Festival che ormai è diventato un'istituzione.